Ogni anno è sempre la stessa storia, per 12 mesi rincorriamo ogni singolo rumor per poi trovarci quel giorno di inizio settembre in cui viene svelato il nuovo iPhone, le parole dei leaker non contano più niente ed Apple trasforma tutto in realtà. Sono passati oramai quasi due giorni dall'evento di Apple e credo che chi ha voluto scoprire le novità, a questo punto ha già letto un articolo, ha già visto un video, ha già ascoltato un altro podcast. Per cui, come al solito, questa puntata è una sorta di commento a voce alta, è una sorta di pensiero che vuole essere anche la prima parte di un dialogo. Quindi la solita call to action che di solito faccio a fine puntata, a questo giro la faccio all'inizio. Nelle note dell'episodio trovate i link a tutte le mie piattaforme social. Trovate i link principalmente a X o a Telegram. Fatemi sapere quello che pensate su quello che vi dirò tra qualche minuto, perché secondo me è già uno stimolo che voglio portare alla vostra attenzione e poi fatemi anche sapere qual è il vostro pensiero sulle novità che Apple ha effettivamente presentato. Ma prima di parlare di tutto quello che abbiamo visto nell'evento di lunedì, vorrei partire da quella che secondo me è stata la sveglia di tanti di noi, perché appunto in Italia l'evento è alle 19 e di conseguenza tutti noi ci svegliamo alla mattina con delle premesse in testa. Magari tutti avevamo in mente un percorso che poi ci avrebbe portato alle 7 di sera e come al solito tutte le mattine io mi sveglio, prendo l'iPad e apro Twitter. Apro Twitter, apro X, chiamatelo un po' come volete, ma io apro la piattaforma di Elon Musk e lunedì io mi trovo che tutte le premesse che in qualche modo mi ero costruito in testa erano andate a farsi friggere. Perché mi sarei aspettato un iPad mini? Mi sarei aspettato una nuova generazione di AirPods Max? Assolutamente no, ma Mark Gurman questo ci ha detto, no iPad mini, sì AirPods Max. E ringrazio il buon Patrick che mi ha fatto notare che quasi poche ore prima, perché venerdì era uscito un rumor di Mark Gurman che ci diceva che le nuove AirPods Max non sarebbero arrivate se non durante il prossimo evento di ottobre e in realtà noi non è che abbiamo visto un aggiornamento delle AirPods Max durante l'evento di lunedì, ma sicuramente c'è stato un piccolo refresh che quindi portava il rumor di Mark Gurman a rivelarsi poi falso e di conseguenza quanto ci dobbiamo fidare di questi leaker? Ovviamente quella che secondo me è una delle missioni di Apple è quella di andare a screditare tutte quelle persone che anche di lavoro raccontano e anticipano poi tutte le novità che arriveranno. Sicuramente trovare lo scoop è un po' il gioco anche che queste persone fanno, è un po' anche il loro lavoro banalmente, ma io veramente vorrei stimolare il vostro pensiero perché credo che dopo l'evento di lunedì, o meglio dopo le premesse durante l'evento di lunedì io prenderò tanti dei rumor più sotto gamba. Non vorrei dare a tanti rumor tutta l'attenzione a cui poi in qualche modo ho fatto seguire anche una puntata di E-Tech e quindi sicuramente voglio far sì che tutte le anticipazioni riguardano a tanti prodotti diventino poi una traccia del racconto che di settimana in settimana faccio anche all'interno di questo podcast, ma voglio cercare di capire meglio come interpretare questi rumor e quindi se avete un vostro pensiero, se avete una vostra opinione riguardo esattamente a questa che secondo me è una delle cose con cui voglio esordire. Fatemi sapere come ci dobbiamo comportare con questi rumor, come dobbiamo in qualche modo prendere tutte queste premesse perché eravamo veramente pronti a tanto altro e poi effettivamente abbiamo vissuto un evento di cui finalmente adesso iniziamo a parlare. E visto che ho citato un paio di cuffie che sono effettivamente arrivate, partiamo esattamente da loro. Partiamo dal punto più basso che Apple secondo me ha raggiunto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Non lo so, ma io veramente trovo imbarzante, scandaloso e vergognoso il nuovo aggiornamento delle AirPods Max. Perché tutti noi siamo possessori, tutti noi abbiamo visto sicuramente un paio di Airpods, tante persone hanno auricolari e cuffie di Apple, tante persone hanno gli auricolari di Apple. Però sicuramente quando parliamo di Apple come azienda e andiamo a considerare la sua storia, sicuramente la musica trova un po' il punto di partenza di quella che potremmo considerare la la riuscita di una nuova Apple. Il fatto che da iPod Apple sia diventata più popolare è un dato di fatto e quindi la musica negli anni è sempre stato un fil rouge per la società di Cupertino. E sicuramente quando parliamo di una Apple nei tempi moderni, dobbiamo considerare anche quello che è uno dei settori secondo me più interessanti, ovvero quello degli auricolari e delle cuffie. Apple ha lanciato nel 2016 gli AirPods e soprattutto quattro anni dopo, nel 2020, ha lanciato anche un paio di cuffie over-ear. Io onestamente sono sempre stato molto curioso di provare le nuove AirPods Max. Poi negli anni ho detto ok, quest'anno magari le compro, quest'anno magari... sono cuffie costose. Partiamo con questo presupposto. E poi ovviamente anno dopo anno fino a trovarci nel 2023 a dire ok, Apple finalmente ha iniziato a mettere la porta USB-C nei suoi prodotti. Quando Apple aggiorna le cuffie con due cose, porta USB-C e processore H2, ecco che effettivamente io mi potrò fare un bel regalo, prendere finalmente un paio di cuffie come si deve e di conseguenza avere un paio di cuffie per ascoltare musica in una maniera diciamo un po' più pro. Mi piace ascoltare la musica, ho un abbonamento ad una piattaforma che mi garantisce anche l'audio in lossless e quindi visto che gli altri auricolari che ho non mi supportano ad oggi una riproduzione in alta fedeltà, ecco che effettivamente un paio di cuffie di Apple cablate sicuramente costose, o meglio un paio di cuffie wireless con il cavo, potrebbero fare al caso mio. Anche perché ricordiamoci che Apple oramai da qualche anno possiede Beats e Beats ha lanciato oramai credo un paio di anni fa le sue nuove cuffie top di gamma, si chiamano Beats Studio Pro, costano 400 euro a prezzo pieno, spesso le si trovano anche a 300 o credo anche a 250 euro di averle viste una volta e sono cuffie che vengono vendute con due cavi in confezione, un cavo USB-C USB-C e addirittura il cavo jack che Apple ovviamente vende separatamente per quanto riguarda le AirPods Max. Le Beats Studio Pro supportano l'audio di qualità, supportano l'audio lossless e sono cuffie che vende direttamente Apple. Per me hanno un unico grande difetto, non hanno lo switch automatico da dispositivo a dispositivo. Mi rendo conto che da questo punto di vista Apple ci ha viziato perché gli altri auricolari che ho, oltre ovviamente a innumerevoli paia di EarPods, sono gli AirPods di terza generazione e gli AirPods Pro di seconda generazione, ecco che effettivamente io prendo qualsiasi dispositivo che io abbia attorno, metto un paio di auricolari ed effettivamente posso ascoltare la musica senza o un podcast o fare una chiamata senza dover necessariamente andare a selezionare la fonte da dove riprodurre la musica o il podcast o la chiamata o chissà che cosa. E quindi ho detto ok, appena escono le nuove AirPods Max con il chip H2, oltre ovviamente all'USB-C, le compro. Ed ecco che lunedì Apple presenta le sue cuffie con la porta USB-C con il chip H1. Durante lo stesso evento Apple presenta due paie di auricolari, gli AirPods di quarta generazione con e senza cancellazione attiva del rumore con il chip H2. E questa io veramente la considero la presa in giro massima. Il punto più basso di Apple da diverso tempo a questa parte. Perché sono cuffie che costano, sono cuffie che vengono aggiornate ogni quattro anni. Apple le ha presentate nel 2020 e le ha ripresentate solamente con dei nuovi colori e un'altra porta quattro anni dopo. E il rumor che arrivavano i nuovi colori c'era già tipo tre anni fa. La nuova porta devono metterla perché sennò non possono vendere un paio di cuffie nel 2024. E di conseguenza devo considerare le AirPods Max un progetto morto? Stessa cosa la dicevamo anche per gli HomePod, ma poi all'inizio dello scorso anno è arrivato un HomePod di seconda generazione. Io a questo punto mi chiedo cosa devo fare? Io voglio un paio di AirPods Max. A questo punto io mi consiglio e probabilmente consiglio anche a chi volesse provare un'esperienza del genere a farsi un giro su eBay. Io le ho viste anche a 200 euro. Ovviamente garanzia eBay più garanzia PayPal. Magari se non veniamo scammati ecco che ci portiamo a casa allo stesso prezzo dei nuovi AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore anche un paio di cuffie che effettivamente poi la qualità ce ne ha. La qualità è effettivamente parte di quel prodotto, però ad esempio non ha la modalità audio adattiva, cosa che ovviamente è arrivata anche negli AirPods di quarta generazione con cancellazione attiva del rumore. Quindi da una parte io trovo veramente imbarazzante che Apple presenti questo paio di AirPods Max. Dall'altra parte io trovo molto interessante la line up di AirPods in generale, perché adesso parlo di AirPods al maschile, perché consideriamo quello che Apple sta facendo in questo 2024. Probabilmente sta andando a creare la stessa frammentazione che tante volte in questo podcast abbiamo parlato riguardo a tante altre line up. Abbiamo detto che Apple dovrebbe avere tre diversi modelli di iPhone, tre diversi modelli di iPad e probabilmente adesso abbiamo tre diversi modelli di AirPods. Abbiamo gli AirPods standard senza cancellazione attiva del rumore che diventano un pochino gli AirPods SE. Io personalmente li avrei venduti a qualcosa di meno. Poi abbiamo un pochino gli AirPods per tutti, quindi sicuramente abbiamo la cancellazione attiva del rumore. Abbiamo un design che dovrebbe adattarsi al maggior numero di orecchie possibili. Abbiamo una custodia che effettivamente poi deriva dalla stessa custodia degli AirPods più costosi e quindi anche dal punto di vista del case abbiamo delle migliore in più. Sicuramente il fatto di avere dov'è è qualcosa che onestamente trovo molto interessante, anche perché lo trovo molto utile e di conseguenza probabilmente magari per Natale mi regalerò questi AirPods di quarta generazione con cancellazione attiva del rumore al posto dei miei attuali AirPods di terza generazione e poi ovviamente a questi due modelli auricolari si va ad affiancare il modello di punta gli AirPods Pro che non vengono aggiornati da un punto di vista hardware ma secondo me diventano molto interessanti dal punto di vista software perché abbiamo l'approvazione dell'FDA per un test dell'udito. Quante volte guardando la televisione ascoltando in radio sentiamo il test dell'udito amplifon gratuito? Ok dobbiamo spendere 279 euro per avere un paio di auricolari più altrettanti o se non di più per avere un iPhone con iOS 18 ma avremo un paio di auricolari che effettivamente ci daranno la possibilità di effettuare un test dell'audio e quindi magari scoprire dei problemi audio. Quante volte durante i keynote di Apple abbiamo assistito alle classiche lettere strappalacrime di persone che con Apple Watch trovavano un problema cardiaco? Quante persone e adesso ovviamente ci arriviamo scopriranno le apne notturne attraverso il nuovo Apple Watch? Ecco che ovviamente la cosa interessante di cui poi vorrei sentire il parere di una persona che sarà mio ospite tra una settimana quante persone potranno trovare beneficio in tutto questo e io trovo molto interessante che Apple abbia presentato una delle novità più importanti dal punto di vista salutistico durante il keynote attraverso un aggiornamento software. Questa è una cosa software che nessun leaker aveva previsto e che secondo me diventa molto interessante. Ovviamente poi abbiamo la tanto anticipata modalità apparecchi acustici e poi sicuramente la cosa interessante è che Apple entra a gamba tesa a livello in qualche modo di nostra protezione nel senso che se gli auricolari sentono molto rumore attorno a noi tutto quello che sentiamo attraverso gli Airpods Pro ci viene abbassato ad un livello sicuramente diciamo più coerente meno impattante per i nostri orecchi. E quindi finalmente ne parlavamo prima parliamo di quella che secondo me sarebbe dovuta in qualche modo essere la vera e propria star dell'evento perché io mi sarei aspettato un pochino di più per il decimo compleanno di Apple Watch perché esattamente dieci anni prima e credo che non l'abbiano neanche citata come data il 10 di settembre noi avremmo dovuto vedere l'evento secondo Mark Gurman in realtà Apple ha introdotto la decima generazione di Apple Watch esattamente dieci anni dopo il 9 settembre del 2014 quando per la prima volta abbiamo visto la prima generazione di smartwatch e noi eravamo stati abituati a qualcosa di diverso ce l'avevano abituato a un compleanno ad un anniversario più importante e decisamente più in pompa magna ovviamente mi sto riferendo all'iPhone di decima generazione all'iPhone X per quello sto facendo te all'iPhone X che effettivamente è stata una vera e propria nuova pagina un nuovo capitolo per la storia dell'iPhone da una parte ma in generale della telefonia mobile dall'altra e ben venga quello che dicono essere un nuovo design e sicuramente è una rifinitura è un rifinimento del design attuale però onestamente mi si è rispettato un po di più poi sono tre anni dal mio serie 7 per cui settimana prossima mi arriverà un nuovo Apple Watch mi arriverà un Apple Watch di decima generazione in titanio e qua ben venga anche poi l'aggiornamento del materiale quindi passare dall'acciaio al titanio innanzitutto vedremo poi e ve lo racconterò tra un paio di settimane o tra tre settimane devo capire se fare una sola puntata in cui vi parlerò sia di iPhone 16 Pro che dell'Apple Watch serie 10 oppure se splitterò le due cose ma una delle cose che poi vorrei notare già con con l'unboxing quindi poi settimana prossima magari vi farò già sapere sui su su twitter o magari anche da altre parti non so esattamente dove magari farò un episodio dove vi racconterò le mie prime impressioni a caldo e quindi magari torno un pochino col format della peri podcast comunque voglio vedere la finitura perché il titanio mi piace tantissimo su iPhone trovo che da un punto di vista di durabilità e anche da un punto di vista visivo sia bello su un telefono però l'acciaio lucido mi piaceva su un orologio io sia il serie 4 nel 2018 che il serie 7 nel 2021 ho avuto appunto il modello in acciaio per cui passerò al titanio e voglio veramente vedere come sia da un punto di vista di indossabilità e soprattutto di peso che ovviamente da un punto di vista estetico perché credo che da alcuni punti di vista l'Apple Watch debba essere un po' anche un accessorio da sfoggiare in diverse occasioni accessorio che ovviamente si sfoggia attraverso anche i cinturini e qua devo dire che non mi è piaciuta quella mossa di non dare la compatibilità dei cinturini dell'ultra o meglio io non l'ho vista poi magari andrò in apple store e mi verrà smentita una cosa anche perché i cinturini dell'ultra adesso si possono mettere sull'apple watch da 45 mm quello che vorrei sapere è se effettivamente io posso mettere i cinturini i nuovi cinturini in in titanio sull'apple watch che è in titanio per cui il nuovo cinturino che hanno presentato è molto interessante costa una fucilata perché costa 219 229 euro però magari un regalo di natale ci sta un cinturino più elegante visto che poi tutte le altre band di apple watch io le ho in gomma comunque apple watch molto interessante schermo più grande e effettivamente credo che magari non riceveremo tutti quei benefici che abbiamo vissuto con l'altro aggiornamento all'epoca passavamo da 44 a 45 mm adesso da 45 mm a 46 però sicuramente il grosso dal punto di vista grafico c'è stato lo scorso anno sicuramente watch os 10 ha portato un'altra concezione dell'utilizzo degli smartwatch di apple e quindi sicuramente quello che arriverà la prossima settimana sia in termini di aggiornamento software che ovviamente in termini di nuovo prodotto per quanto mi riguarda saranno dei bei passi fondamentali in avanti e però non è che secondo me si vedrà tutta questa differenza poi ripeto ad oggi sono tutte chiacchiere perché stiamo commentando un evento che c'è stato meno di 48 ore fa ma la cosa interessante è che probabilmente poi tra un paio di settimane vi racconterò in maniera concreta anche perché guardando un po di hands on guardando un po di foto la cosa che personalmente mi lascia un po perplesso è che questi nuovi apple watch sono addirittura più grandi dell'apple watch ultra e ho sempre avuto la versione più grande 42 44 adesso 42 44 45 46 l'ho fatte praticamente tutte e ho i cinturini del modello più grande per cui naturalmente cioè proprio in maniera naturale sono andato verso l'apple watch grande però paura sia troppo grande per cui poi appunto vi racconterò tra tra un paio di settimane poi le altre novità più o meno le sapete ovviamente devo sottolineare un punto in basso che apple ha avuto anche per l'apple watch ultra che è ovviamente il modello nero che viene lanciato nel 2024 con un processore del 2023 e questo è un grande punto di domanda a questo punto non sarebbe stato meglio lanciarlo tra 12 mesi probabilmente no perché chi vuole un apple watch ultra chi avrebbe voluto un apple watch ultra nero magari vende il watch ultra 2 titanio naturale e lo compra appunto titanio nero e poi magari chi vorrà aspettare la nuova generazione lo farà prescindere quindi ovviamente apple come al solito ripetiamo non è un ong vuole dei soldi e quindi appunto arriveranno i soldi di tutte quelle persone che nel 2024 probabilmente passeranno da apple watch ultra 2 in titanio allo stesso modello nero non abbiamo avuto l'apple watch se di terza generazione ovviamente guominci ha subito detto che arriveranno tutti nel 2025 come lui aveva detto il 16 di novembre del 2023 mi sono preso un appunto mentale che potrebbe essere vero e quindi ci ricolleghiamo a tutti i digger che dicono tutto il contrario di tutto ma finalmente dopo quasi 25 minuti siamo qui per parlare delle star perché ovviamente l'evento di settembre è l'evento di presentazione degli iphone io non voglio fare il riassunto l'ho detto prima ma voglio sì che questi ultimi dieci minuti siano un po il mio pensiero su questi iphone per me non sono gli iphone inutili di cui tanto si sente parlare in giro soprattutto in italia il malcontento è tanto si sentono tante critiche ma io onestamente sono molto fiducioso soprattutto per il prodotto che sceglierò io prenderò un iphone 16 pro in colorazione titanio nero da 6 pollice 3 da 128 giga e partiamo con questa cosa è forse l'unica cosa per cui ho storto il naso perché mi sarei aspettato una partenza da 256 giga perché a questo punto apple diventa un po incoerente da una parte abbiamo avuto l'upgrade raddoppiando la memoria base dell'ipad pro ed è sempre stato in qualche modo un anticipatore di quello che poi apple avrebbe fatto con l'iphone praticamente successivo quindi mi sarei aspettato appunto una partenza anche dell'iphone base dell'iphone pro base da 256 giga abbiamo il 128 prenderò il modello base perché appunto avendo il il 15 pro da 128 continuerò anche perché ho visto prima di cominciare c'ho 57 giga liberi ma boh 256 giga potrebbero magari essere un pochino auspicabili nel 2024 poi ripeto ho un ipad mini da 64 giga lo utilizzo ho l'iphone 13 e l'iphone 15 da 128 giga e di conseguenza mi accontenterò dello stesso taglio di memoria ripeto è l'unica cosa per cui sto al col naso però perché dico che apple è incoerente perché personalmente avrei preferito che alzasse un po di più il taglio base perché quest'anno apple esattamente come aveva fatto per tanti anni prima di tornare a fare differenze ha racchiuso in due modelli tutte le novità abbiamo il modello base e il modello pro con due sole differenze schermo e batteria quindi quello che più mi è piaciuto quest'anno e potremmo già iniziare a fare una sorta di ragionamento a lungo termine che sicuramente poi riprenderemo in un episodio di dicembre apple nel 2024 ha presentato tante app coerenti abbiamo l'ipad air in due dimensioni di schermo abbiamo l'ipad pro in due dimensioni di schermo abbiamo l'iphone base in due dimensioni di schermo e abbiamo gli iphone pro in due dimensioni di schermo e a parte batteria e schermo tutti questi prodotti hanno la stessa identica scheda tecnica quindi cosa penso di questi iphone penso che siano la naturale evoluzione di tanti dispositivi di cui tanto abbiamo sentito parlare gli iphone sono coerenti apple ad oggi non deve cambiare niente perché gli iphone 15 sono stati se vogliamo degli esperimenti da un punto di vista del design sono riusciti perché sia l'iphone 15 base che l'iphone 15 pro hanno cambiato la forma il 15 pro ha cambiato anche i materiali per il resto io non mi aspettavo altro che le cose da cui in qualche modo hanno tratto beneficio questi nuovi modelli soprattutto io voglio sottolineare quanto questi modelli anche da noi saranno dei best buy per il processore a 18 e a 18 pro apple dopo qualche anno di scostamento ha una nuova gamma di processore in questo caso in due tagli diversi per il modello base e per il modello pro di un'unica grande famiglia che è la famiglia da cui poi in qualche modo ipad pro di nuova generazione in qualche modo ha fatto la capostipite perché parliamo del primo processore mobile con architettura a 3 nanometri con processo costruttivo di seconda generazione e questa cosa a me piace onestamente tanto perché ho un ipad pro m4 e io da quando ho fatto lo switch a da m1 a m4 o banalmente quando paragono l'ipad air m2 all'ipad pro m4 io vedo che il processo costruttivo a 3 nanometri di seconda generazione è molto meno energivoro e non vedo l'ora di segnarmi in rosso una data sul calendario ovvero quella di lunedì 23 settembre perché voglio fare un esperimento ovviamente sabato e domenica saranno due giorni in cui giocherò all'inverosimile con il nuovo iphone ma poi lunedì sarà il primo vero giorno sarà il giorno in cui in qualche modo apple farà sì che avrò un iphone solo ecco voglio tornare ad avere un solo iphone e non due quindi voglio partire il 23 di settembre con una carica dell'80 per cento abbiamo letto per l'ennesima volta soprattutto in queste ultime settimane in questi ultimi giorni tante lamentere riguardo la durata della batteria lo raccontavo anche all'interno di questo podcast un paio di settimane fa io purtroppo non posso parlare ho cambiato più iphone 15 pro ho avuto dei problemi con i tasti e quindi apple in garanzia mi ha sempre cambiato il telefono e di conseguenza quello che sicuramente io non posso raccontarvi è la mia esperienza con la batteria tante persone mi hanno raccontato della loro pessima esperienza e di conseguenza io sono molto fiducioso di quello che abbiamo visto durante l'evento di lunedì perché non parlo di display non parlo di nient'altro perché appunto sono delle naturali evoluzioni e sicuramente poi questa puntata vuole essere appunto un mio riepilogo del keynote e il motivo per cui prendo l'iphone sono sostanzialmente i motivi sono sostanzialmente due lo schermo più grande perché voglio provare questo schermo da 6 pollici 3 che potrebbe essere il mio limite anche se già il 6 e 1 per me troppo grande apple ridammi un iphone da 5 pollici 8 per favore 2 per la durata della batteria apple ha dichiarato 4 ore in più sull'iphone 15 pro e 4 ore in più sull'iphone 15 pro max quando ho notato questa cosa sul sito apple sono andato a vedermi la conferenza del 2019 nel 2019 apple ha dichiarato più 4 ore dal 10s all'iphone 11 pro e più 5 ore dal 10s max all'iphone 11 pro max io le quattro ore le voglio le voglio non perché voglio un iphone con una batteria che mi duri ma voglio provare ad avere un iphone a cui io posso limitare la capacità di carica all'80 per cento per far sì che il telefono ma soprattutto la sua batteria mi duri più di un anno perché non so se l'anno prossimo cambierò probabilmente sì però voglio capire se apple ha riconosciuto il suo errore ricordiamoci quello che è successo nel 2023 ricordiamoci la solita puntata è purtroppo per voi un boccone amaro che ogni volta dovete subire io ho fatto una puntata lo scorso anno che si chiamava il peggior iphone di sempre io da un punto di vista batteria mi sono trovato malissimo con l'iphone 14 pro max o meglio con l'iphone 14 pro non so perché ho aggiunto max con l'iphone 14 pro io ma anche tante persone si sono lamentate di questa cosa apple negli iphone 15 cosa ha fatto ha messo un nuovo menu e ha messo la possibilità di limitare la carica all'80 per cento quindi abbiamo la consapevolezza che apple ha fatto delle cappelle con la batteria della serie 14 pro e di conseguenza visto che tante persone adesso si lamentano della stessa cosa sull'iphone 15 pro cosa che ripeto io non posso raccontarvi in prima persona ma posso riportare la opinione e il pensiero di tante persone di tanti ascoltatori che hanno condiviso questa cosa con me io voglio avere un iphone con una batteria che duri anche perché se abbiamo un iphone con una batteria duratura ecco che personalmente sono più contento non vedo l'ora magari di farmi un weekend via senza caricare l'iphone e poi soprattutto i consumi e soprattutto la cosa bella che nel 2024 possiamo avere è la duplice potenza che apple in qualche modo ci fa già percepire sull'ipad pro l'ipad pro è un dispositivo che ho aspettato e quindi un dispositivo che di settimana in settimana di giorno in giorno sto conoscendo io l'ipad pro lo sto amando alla follia esattamente per questo piccolo momento verità io adesso sto dicendo che l'evento è l'altro ieri perché la puntata uscirà l'11 di novembre e sì magari l'11 di settembre ma in realtà in questo momento sono le 22 e 5 minuti di martedì 10 settembre quindi io l'evento l'ho vissuto ieri ho visto adesso a quanto è il mio ipad pro ipad pro che ho staccato stamattina alle 8 e 08 e io adesso alle 22 e 06 quindi dopo tanto tempo ho ancora il 46 per cento e l'ho usato perché ho rivisto tutto il keynote in hdr sul display oled perché ho messaggiato perché l'ho usato per consultare i pdf che qualche che mi sembra mio papà mi ha mandato onestamente non mi ricordo perché ho dormito poco perché ieri sera dopo l'evento ho rivisto l'evento mi sono visto un po di video e oggi ho rivisto l'evento per cui sono abbastanza cotto e la batteria mi sta durando ripeto dalle 8 alle 22 adesso sono le 22 e 07 per cui tra un minuto io avrò staccato l'ipad da 14 ore l'ho usato per 4 5 ore e ho ancora la batteria al 46 per cento ed è un ipad che uso quotidianamente dal suo day one lo carico praticamente tutti i giorni ho fatto 69 cicli di carica quindi da maggio a settembre ho fatto 69 cicli di carica quasi tutti limitati all'ottanta per cento e io spero di raccontarvi la stessa cosa per il nuovo iphone 16 pro e se il nuovo iphone 16 pro farà fare questa cosa ecco che apple dà la consapevolezza a noi utenti di aver imparato dei propri errori ho fatto una puntata in cui parlavo effettivamente di questo ma poi in qualche modo si è rivelata del fake e onestamente spero veramente tanta 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 roba dei nuovi iphone gli iphone base hanno l'action button il nuovo iphone base anche l'iphone base ha il controllo fotocamera e credo che questa oramai potremmo considerarlo nel 2024 la rivincita su rabbit e humane pin quindi abbiamo un tasto che tante persone secondo me useranno più per parlare con chat gpt per dialogare con apple intelligence che purtroppo da noi non arriverà rispetto appunto che controllare la fotocamera poi onestamente non c'è molto da dire su questi telefoni sono degli ottimi aggiornamenti dei telefoni dello scorso anno ho già parlato in maniera totalmente da innamorato anche la scorsa settimana in compagnia di giulio di quanto io mi sia trovato bene con l'iphone 15 non comprerò l'iphone 16 mi terrò l'iphone 15 perché è un dispositivo che ad oggi secondo me ha senso come muletto come secondo telefono però io spero che questo iphone sia veramente un punto di partenza perché appunto abbiamo il tasto cattura il capture button che si chiama controllo fotocamera che secondo me sarà un po' più il tasto camera ai cioè dialogo con le ai che un controllo sugli scatti e nel 2024 io spero che soprattutto il processore a 18 sia lo stimolo per una nuova apple perché ricordiamoci che questo processore poi sarà anche la base del nuovo iphone se e se le premesse che arriveranno la prossima settimana saranno decisamente buone sia in ottica iphone 16 pro che in ottica iphone 16 io onestamente consiglio già adesso a tante persone l'ho già fatto ma continuerò a sottolinearlo quanto secondo me il vero best buy del 2025 non sarà l'iphone 17 slim non sarà l'iphone 17 pro non sarà l'iphone 17 ultra ma sarà il nuovo iphone se di quarta generazione per cui veramente incrociamo tutto apple sicuramente non ha fatto l'evento della vita sicuramente questo non è un anno in cui stravolgere i piani perché abbiamo visto tanti passi in avanti da altri punti di vista soprattutto software soprattutto purtroppo non da noi con apple intelligence che arriverà nel 2025 con altre lingue e secondo me qui apple ha fatto un pochino si è parata al di dietro diciamo così perché e qua finalmente concludo la puntata con un'ennesima esperienza negativa che mi porto a casa dall'evento di lunedì apple non ha parlato di paesi apple ha parlato di lingue ha parlato di francese e ha parlato di spagnolo non ha parlato di francia e non ha parlato di spagna perché la francia al francese ma anche in canada si parla il francese in spagna si parla assolutamente lo spagnolo ma in tutto il sud america lo spagnolo è una delle due lingue con il portoghese è quello che su questo podcast vi ho detto qualche episodio fa non dobbiamo parlare di lingue dobbiamo parlare in qualche modo di località anche se avessero presentato il portoghese io non mi sarei stupito perché in brasile si parla portoghese apple in questo momento ha intenzione di espandere il servizio globalmente? sì l'unione europea secondo me non c'è ancora nonostante 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 francia e spagna non sono stati citati ma francese e spagnolo sì e con questa consapevolezza io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata ovviamente siccome lunedì ci sarà un aggiornamento importante lunedì 16 alle 19 si potrà scaricare ios 18 ipad os 18 e watch os 11 vi invito a farlo sono degli aggiornamenti stabili di cui poi parleremo tra 7 giorni con un ospite io vi ringrazio vi saluto e nuovamente se avete qualche pensiero sull'evento di lunedì fatemi sapere i link li trovate nelle note dell'episodio ciao ciao